ciao a tutti e bentornati su hermes channel web tv in un'altra puntata di sai che ciao valeria ciao pino ciao a tutti allora il sai che di oggi che vi proponiamo è inerente all'arte naturale e l'arte naturale quindi parliamo dell'albero di olivo in quanto è un'opera d'arte naturale infatti io difendo l'olivo è un'iniziativa nazionale e il presidente federico simone dello storico circolo pivò di castellana grotte ci informa a riguardo come tramite il video però naturalmente vi dovete iscrivere prima al canale su youtube hermes channel web tv e magari azionate anche la campanellina per vedere per i primi i nuovi video che postiamo quindi è il momento di vederci il video e poi non dimenticate di commentare cosa ne pensate a riguardo bene vediamoci il video ciao ci troviamo al circolo pivò di castellana grotte con il presidente federico simone il sai che di oggi è salvaguardare un'opera d'arte naturale io difendo l'ulivo federico quando nasce questa iniziativa ciao a tutti questa iniziativa è ormai da decenni ed è collegata al fai fonda ambiente italiano che dà la possibilità di poter dire con una frase io difendo l'ulivo in che cosa consiste questa iniziativa ma l'iniziativa consiste come dice appunto il titolo io difendo l'ulivo di poter dare la possibilità di conoscere che questi monumenti della natura questi alberi secolari d'ulivi vengano sempre protetti e portati alla conoscenza che sono patrimonio della natura e che vanno così salvaguardati questo non lo dico io soltanto ecco i maggiori esponenti della cultura italiana della letteratura della musica si sono associati a questa a questo tema che io difendo l'ulivo in che modo ognuno di noi può salvaguardare queste opere d'arte della natura? ah certamente ognuno di noi deve proteggere questa pianta la deve sentire come propria ossia deve fare in modo che tutti questi alberi tutti questi monumenti vengono protetti non vengono espiantati non vengono torturati e non vengano diciamo distrutti interi oliveti intere coltivazioni per portare diciamo ad un maggiore profitto con altre coltivare con altri diciamo altre piante ecco questo è importante che noi dobbiamo proteggere e salvaguardare questo tutto questo cosa intendete fare per proseguire questa iniziativa? beh noi intendiamo proseguire con questa iniziativa mostrando effettivamente attraverso ecco questa mostra fotografica questi capolavori che sono stati fotografati da grandi artisti fotografi e che maggiormente dimostrano la bellezza e la autenticità di questo monumento della natura perciò portare a conoscenza e proseguire in questo campo è il nostro intento l'ulivo non è soltanto l'arte visiva ma sull'ulivo ci sono anche tante storie e leggende Federico ci vorresti raccontare magari una storia un po' più curiosa? sì ecco a proposito ci sono tante storie tante poesie sull'ulivo perché come monumento diciamo è stato è stato diciamo preso a considerazione nel cuore di tanti illustri poeti addirittura sin dai tempi antichi da Poseidone diciamo che ci fu una disputa no? e che tra l'altro tra il cavallo e l'ulivo qual era più importante? allora tant'è vero che Zeus ne dette diciamo il consenso per l'ulivo e da allora l'ulivo è diventato simbolo della pace appunto perché c'era questa disputa sull'Olimpo per cui non si capiva che poteva essere diciamo più importante il cavallo o l'ulivo e l'ulivo è sempre stato diciamo un simbolo di pace e tra l'altro anche altri poeti come Scipione Navac per esempio e che il nostro diciamo consulente artistico ha scritto delle poesie in merito alla pianta dell'ulivo ecco ora vi leggo un passo di una poesia di Scipione Navac non la leggo tutta ma giusto diciamo un frammento che si chiama Olivi chiome d'argento disperse nella nuvolaglia trame di rughe grigie di ceppi scolpiti dai terni scirocchi apigi radici denudanti di terre rovente fumante a nuvole temporali altari di preghiere di tristezze in lungo stormire di secoli olivi bellissimo tanti complimenti grazie mille Federico ecco io voglio salutare voglio ringraziare voi e che tutti quanti possiamo sempre usare questa frase io difendo l'ulivo fantastico sai che può interessare o coinvolgere anche te grazie mille 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 grazie mille